Possiate essere sempre i cacciatori e mai le prede. Andiamo, la festa sta per iniziare. Cos'è questo posto? Perché non hanno gli occhi? C'è qualcosa che non dovrebbero vedere. Guardate cosa abbiamo trovato! Li portatelo indietro! Qualcuno venga ad aiutarci! Ho appena fatto! Non farlo entrare, ti prego! Per il ciclo Dark Thriller. Quello che hai fatto alle sculture, lui lo farà a te. Pencil! Questa sera, alle 21.20, Rai 4.